E' arrivato il Luna Park al piccone e noi ce ne siamo accorti solamente dopo 95 minuti. Bella prudezza, ma credeteci che all'inizio era difficile prevedere quanto visto poi in corso d'opera. E noi cerchiamo di farci entrare tutto in un pugno di secondi, cominciando dal quarto, quando De Almeida non trova la rete per una deviazione provvidenziale. Al settimo serviamo il numero 7, Ospide Race, che da tiro di punizione vede la sua traiettoria decollare. Al nono il giubilo è Pertafili, che inzucca bene, folgorando un incolpevole d'amico. Tredicesimo, Cupello in palla e Troiano si dà allo slalom di fine stagione, ma la conclusione è troppo centrale per risultare letale. Ventisettesimo, Cupello che raddoppia in contropiede con una serie di impalli fortunosi. Troiano poi stivaletta per un tiro sporco dal risultato garantito. 2-0 e scatta il Mecklob Time, che poi non è altro che il momento di Damore che pennella riaprendo la partita. Trentatreesimo, Brividi al centro dell'area Castellana, nel deserto dei Tartari, spunta il piede di squadrone che arriva di rincorsa e spara nei campi di Fucino. Trentaseiesimo, ancora squadrone alla conclusione, ma la sfera finisce alta. Trentasettesimo, De Almeida in grande spolvero pesca il pertugio buono, ma trova di cencio sul primo palo gli tarpa le ali. Quarantaduesimo, Lombardo viene fermato con le dubbie. Pendenza si distrae al telefono e la chiamata cade fra le braccia dell'estremo ospite. Ripresa che parte col botto, 30 secondi appena, e Pannecasio carica dal limite trovando pendenza sulla propria strada. La deviazione killer va a finire su una beffarda traversa. Undicesimo, ennesimo tiro d'angolo ospite con un certo spessore, e questa volta ad approfittarne il corrado sul secondo palo. 3-1 che sa tanto di definitivo. E invece, pallone a centrocampo, Bruni calcia e Dicencio vola. È angolo, sugli sviluppi del quale Paris riapre la partita. Ventiquattresimo, lancio lungo per Troiano che colpisce di volo da posizione decentrata, ma viene rimpallato in angolo sugli sviluppi del quale D'Amico fa correre un lungo brivido ai presenti. Trentunesimo, Troiano viene abbattuto in area dal dischetto Stivaletta spiazza e non perdona un incolpevole D'Amico. Il Celano accusa, il cupello prova a calare la cinquina al trentasettesimo con Stivaletta stoppato dalla D'Amico Airlines. Quarantquattresimo, Selle viene pescato con le mani nella marmellata e il rosso scatta direttamente in panchina. Servizio a domicilio e si riparte con Lombardo, che al quarantaseiesimo pesca una beffarda traversa direttamente dalla fascia. Quarantottesimo, spiove una palla e pendenza la trasforma in oro. Finisce 4-3, ma l'Italia e la Germania erano un'altra cosa.